Comunque oggi la realtà è che questo ospedale non lo abbiamo. Poi è venuto Marazzo Danagni dicendo che dovrà costruire questo ospedale con i fondi della vendita dell'ospedale di Frosinone. Ma noi ben sappiamo che questi fondi già sono stati impegnati con delibera regionale per almeno per acquistare quelli che sono le attrezzature del nuovo ospedale di Frosinone. E non penso che gli stessi 20-30 milioni di euro possano servire per l'ospedale di Frosinone e contemporaneamente per la costruzione dell'ospedale di Anagni. Quindi io l'ho detto chiaramente giorni fa e lo ripeto ancora, per noi il nostro governatore ci ha preso in giro, ha preso in giro tutti gli anagnieri perché ancora non trova i fondi per poter costruire questo ospedale. Quindi l'impegno di sindaco è quello di potersi battere su una regione affinché rispettino quello che è il protocollo d'intesa e affinché ridiano dignità sanitaria alla nostra cittadinanza che poi non è solo dei cittadini di Anagni ma è di un'utenza pari a 60 mila persone perché noi raccogliamo anche gli altri comuni. Quindi io penso che un ospedale in quella zona è importante, è primario e bisogna, è vero che oggi la politica viene spostata sulle specializzazioni ma rendiamo però un ospedale efficiente. Non vediamo solo le chiusure come stiamo vedendo fino ad oggi. Siamo a mercoledì sera dopo il tour del sindaco di Roma Alemanno tra i comuni della provincia di Frosinone. Per chiudere questo appuntamento qual è l'appello al voto che fa Franco Fiorito agli elettori di centrodestra? Ma è un appello che è simile a quello di Anagni perché noi oggi ci presentiamo, innanzitutto siamo stati insieme con il sindaco Alemanno in due o tre appuntamenti importantissimi veniamo da Cassino, come tu sai, siamo stati ad Arce, siamo stati a Verro in un'altra città importante dove si vota, c'è Magliocchetti, candidata al sindaco e Sara Petrucci e Arce che stanno facendo un lavoro straordinario e saranno delle sorprese di questa campagna elettorale. Ma è la stessa tematica di cui abbiamo esposto prima. Noi oggi in centrodestra ci presentiamo con Antonello Iannarilli e Fabio De Angelis candidato alla vicepresidenza con un programma completo, una coalizione di nove liste anche dopo la vicenda delle due che sono state, che però ci stanno sostenendo che sono state escluse, con un programma vero e con una coalizione che governa in tante città il governo nazionale e che ha un vero affidamento politico agli elettori. Allora oggi puoi pensare che abbiamo di fronte un avversario come Schietro ma che è pressoché scomparso, non so se sia apparso qui in televisione ma è scomparso dalle cronache, dalle attività politiche perché ha lasciato il passo a questo finto terzo polo che hanno fatto che è solamente lo sgabbello che sta tentando di portare al ballottaggio e non ci riuscirà perché vinceremo al primo turno questa coalizione centrosinistra con una strategia infantile da questo punto di vista, ma ci contrapponiamo a questo tipo di attività a quella dei programmi inesistenti, a quella della vergogna di 15 anni di mala amministrazione del centrosinistra con un programma vero, un candidato forte come Antonello Iannarilli una squadra di governo pronta che è in grado di governare bene questa amministrazione con un progetto politico che deve portare i comuni dove votiamo la provincia, l'anno prossimo la regione Lazio e poi insieme al governo nazionale e alle europee anche, dove abbiamo tanti amici candidati in questo territorio e non che stanno facendo una grande battaglia a fare una filiera importante e un progetto complessivo su questo territorio lo dico perché noi qui abbiamo bisogno di rinnovamento non abbiamo bisogno di presidenti della provincia che scappano prima portandosi dietro la sedia attaccata al sedere volando al posto dell'aeroporto a Roma a fare gli assessori regionali di deputati come De Angelis che oggi scappano alle europee volano loro pure via dimenticandosi l'azione che hanno fatto sul territorio e dei politici come Schietroma dei quali abbiamo rispetto ma che per noi rappresentano il vecchio del vecchio e verranno puniti dagli elettori perché non portano avanti nessun programma chiedete a Schietroma perché non parla di 15 anni di amministrazione di centrosinistra perché invece di andare in giro a fare i comizi di Oscalia De Angelis vada solo, lo hanno abbandonato completamente e chiedete anche agli altri partiti più miseri che faranno una brutta figura anche in questa campagna elettorale di dire qual è il loro progetto politico perché mi dispiace ma gli unici che si candidano veramente a governare in questa campagna elettorale siamo noi gli altri lo fanno per interdizione o per paura e vergogna del governo che hanno avuto fino adesso quindi questa è la scelta vera che va fatta su Antonello Iannarini, su tutti i candidati del Popolo e Libertà senza sbagliare, sbarrando il simbolo di Berlusconi è una scelta che senza dubbio darà vita e forza alla nostra provincia lo farà vincente ma soprattutto dal giorno dopo farà iniziare un lavoro nuovo per la provincia che non ci farà più stare agli ultimi posti di tutte le classifiche della provincia al centotresimo posto per l'ambiente ci salviamo solo per la sicurezza ma per il resto siamo lo zimbello di tutta Italia che quando leggono quelle classifiche ci prendono non più per la ciociaria divertente e scherzosa di un tempo ma per un posto pieno di veleni senza lavoro e prima non abbiamo parlato della videocolore ne parleremo nei prossimi appuntamenti senza speranza e che soprattutto vede un futuro buio bene noi ritaremo questa luce alla ciociaria lo faremo vincendo la provincia e facendolo con grande forza dal giorno dopo lavorando per questa terra per poter non solo vincere ma amministrare bene questa terra ferito dieci secondi non di più quanti voti di centrodestra resteranno con l'ex coordinatore provinciale di alleanza nazionale Sandro Foglietta che non è più con voi ma a me dispiace che Sandro abbia fatto questa scelta ma ha sbagliato completamente credo se ne sia anche ventito pochissimi perché ci sono solo tre o quattro candidati che c'erano prima nel partito il resto sono personaggi con tutto il rispetto simpatici ma presso che sconosciuti che stanno facendo una campagna elettorale euforica allegra ma che al di là delle ghiacchiere che fanno su Facebook sui giornali e sui volantini probabilmente avranno una grande delusione a livello elettorale perché quando si sta in un partito serio con il Popolo Libertà con un Presidente del Consiglio come Berlusconi si sa dove si va quando ci si ribella non si sa ancora a chi a cosa e a quando si capisce che dietro ci sono più motivazioni personali che altro probabilmente alla segretaria del partito o altre questioni che gli elettori non seguono non capiranno perché tutti sono affezionati ai politici locali ma soprattutto sono affezionati ai simboli alle idee e alla gente bisogna dare un progetto politico non una ribellione vana e senza nessun progetto come abbiamo detto finora quindi mi dispiace per loro ma saranno pochi e avranno una brutta sorpresa nelle urne grazie vedremo poi saranno le urne sovrane dottor Noto il suo appello agli elettori di Anagni perché votare proprio per lei? per dare quello che è il mio dare una continuità e un'innovazione a quello che è il mio governo quindi una continuità per quello che è stato interrotto questo famoso 22 aprile del 2008 dare un'innovazione per le liste che sono entrate e con loro Anagni è più forte di prima grazie ad entrambi e buon voto a tutti arrivederci al prossimo numero grazie a voi